Musica Ben ritrovati nel salotto di caffè di Traverso. In questa puntata torniamo ad occuparci dell'emergenza coronavirus, accendendo i riflettori sulla campagna vaccinale di massa che è partita come sappiamo anche nei due capoluoghi di Regione Potenza e Matera. Lo facciamo con Alba Montagnolo, conosciamo il nostro ospite di oggi, dell'ETS ente terzo settore, Marisol Lavanga. Grazie Alba, ti do del tu per aver accettato il nostro invito. Prima di avviare questa nostra chiacchierata insieme, volendo far emergere quelle che sono le criticità legate alla campagna vaccinale qui in Basilicata, lo facciamo introducendoci con un servizio. Circa 5.000, quelle previste a Potenza, 4.600 invece a Matera. È partita a due velocità diverse la campagna vaccinale destinata agli over 80 presso le tendo strutture messe a disposizione dal Qatar nelle aree parcheggi del San Carlo e del Madonna delle Grazie. Una giornata a lungo attesa dagli anziani che hanno vissuto mesi difficili, isolati da figli e nipoti, ma adesso finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. È felice, è contento di fare il vaccino, la vede come una salvezza? È naturale, tutti quanti la stanno facendo, è buono che sia fatto. Chiedo anche a lei, veniamo da un periodo difficile, questo vaccino sembra essere la salvezza, speriamo sia così. Speriamo, ce lo auguriamo, soprattutto per i giovani, perché noi abbiamo già una bella età. È contenta di fare il vaccino questa mattina? Non vedevo l'ora di farlo. Lo consiglia a tutti e crede che sia il giusto deterrente per il Covid? Penso di sì, se ce lo stanno consigliando penso di sì, poi lo faccia bene o faccia male, noi ce lo facciamo. Anche a Venusa e Policoro, Pisticci, Bernalda, Lavello e Tolbe sono attivi i punti vaccinali. A Matera sono soltanto una cinquantina le persone sottoposte nella prima giornata a vaccino, per poi accelerare nei prossimi giorni. La macchina è invece partita già a pieno regime, a potenza. Sì, contiamo di farcela. L'unica variabile non del tutto governabile è la fornitura di vaccini, ma se le aziende farmaceutiche terranno fede ai prospetti di flusso che ci sono stati inviati, non avremo difficoltà. Somministreremo mediamente all'incirco 800 vaccini al giorno e questa cosa ci consentirà di chiudere nella giornata di domenica. Fondamentale il ruolo del personale sanitario. Positiva come giornata, le persone sono coscienti di quello che facciamo, vengono già preparate e vogliose di fare questo vaccino. Contente del vaccino Pfizer e per il resto tutto nella norma. Sta procedendo bene, diciamo che sembra esserci una svolta, soprattutto per gli anziani che sono stati i primi ad essere stati colpiti in prima linea. Anche perché essendo i più debilitati dobbiamo mettere prima in sicurezza loro per poter salvaguardare il resto della popolazione, perché le nostre radici sono proprio gli anziani, quindi se partiamo da loro forse potremmo salvare più persone. Preziosissimo anche il contributo fornito dalla protezione civile e dalle altre realtà associative. Noi siamo pretenti attivi già da giorni su questo tema, assolutamente dei vaccini. C'è una parte organizzativa su cui noi chiaramente collaboriamo direttamente con la direzione sanitaria, non solo per la parte logistica ma per l'assistenza. Noi li accompagniamo, vengono ridate le schede, c'è un'assistenza praticamente totale. Allora Alba, abbiamo visto la campagna vaccinale dopo aver interessato diverse categorie, a partire dagli operatori sanitari, dai medici, poi ha visto coinvolte anche le RSA, adesso si sta svolgendo, sottoponendo gli over 80. Ti abbiamo voluta qui anche come rappresentante di tanti genitori che vivono il tuo stesso problema, cioè quello che vi vede purtroppo alle prese con una situazione familiare molto molto complessa in questa fase di emergenza epidemiologica. Perché Alba? Allora, buongiorno a voi, grazie per questa bella opportunità, perché come sempre mi fa piacere esprimere la mia opinione anche agli altri e soprattutto per ricevere poi delle risposte dalle istituzioni, perché sono sempre quelle risposte a metà. Niente, praticamente io, vabbè, credo che tutta la Basilicata, o molti mi conoscono, sono nata negli anni 80 come Comitato 80 contro l'emarginazione, come socio fondatore, poi come dopo di noi, poi ETS, Marisol Lavanca, la mia nipotina, però soprattutto mi ritengo di essere un cittadino che ci tiene ai diritti degli altri cittadini. Detto questo, io comprendo e capisco che si debbano vaccinare prima tutti i personale sanitario, anche perché io vengo dal mondo della sanità, sono un'ex ospedaliera, non lo dimentichiamo, ed è giusto che sia così. Però io dico che contemporaneamente a tutti gli operatori delle RTS, sì, dico bene, le case famiglie, le RSA, scusatevi, delle case famiglie, vanno vaccinati gli operatori che vengono nelle nostre case. perché l'operatore che viene a casa mia non viene solo a casa mia, va anche a casa di altre famiglie. E quindi non è il disabile che può contagiare l'operatore, come qualcuno vorrebbe affermare. Ecco, dico, chiamando un assistente sociale del Comune, sollecitando anche questo servizio, mi dice, signora ma se lei vaccina sua figlia, l'operatore, e no, aspetta, mia figlia non può essere veicolo di trasmissione, in quanto sta a casa da un anno e mezzo. Ricordiamo Alba, tu sei mamma di una ragazza affetta da una patologia gravissima, anche con molti patologie, quindi non so neanche se mia figlia potrà o non potrà fare il vaccino. Per cui io, per tutelare mia figlia, devo mettere in sicurezza il mondo che la circonda. Quindi mi devo vaccinare io, si deve vaccinare l'operatore, e chi entrerà a casa mia deve essere una persona che viene in sicurezza. E questo vale anche per tutti gli altri ragazzi. Mia figlia non frequenta più l'Aias da due anni, ma non perché lei non fosse compatibile con l'Aias, ma perché più o meno forse è incompatibile l'altro con lei. E quindi di conseguenza lei vive solo a casa con me. Noi è dal mese di marzo dell'anno scorso che io ho un solo operatore. Le 18 ore settimanali date dal comune attraverso la cooperativa Betania. Un operatore che non mi ha lasciato mai sola, nemmeno quando il comune pretendeva che noi firmassimo una liberatoria per l'operatore. Una liberatoria assurda, io ne ho parlato anche l'altra volta a maggio. Una liberatoria assurda. Non devo firmare io la liberatoria per l'operatore se si infetta o se l'operatore me lo porta. Era fatto su un DPCM fatto dalla regione, su tante cose proprio partendo sbagliate. Sbagliate. Quindi anche a loro ho dovuto... Tu l'hai firmato questa liberatoria? Assolutamente no. Io non mi assumo la responsabilità del mio operatore. Perché il mio operatore va a casa di altre tre o quattro famiglie e ha una sua vita normale. Quindi io non posso assumermi la responsabilità per l'operatore. Anche se avendo un operatore sinceramente molto ma molto scrupoloso, anzi scrupolosa vista che è una ragazza, molto scrupolosa, lei si è tenuta distante dalla sua famiglia, dai suoi nonni e tutto il resto per tutelare se stessa e tutelare Maria Carmela. Però non possiamo pretendere che la vita sia questa. Io potrei beneficiare di un altro progetto che l'HCP, ne ho usufruito un po' quest'estate quanto sembrava, a novembre ho dovuto bloccare il servizio. Spieghiamo che cos'è questo HCP? Spieghiamo che non siete rispettati. Allora l'HCP è un progetto, diciamo che il mio ente previdenziale, ma come l'ente previdenziale di tutti gli operatori pubblici, di chi lavora nel pubblico, è un progetto, home care si chiama, che è un aiuto alle famiglie, attraverso passano questi... Un aiuto a domicilio? Sì, a domicilio, sì, puoi assumerti una persona, quindi con tutte le caratteristiche di un'assenzione, oppure potresti prendere il prevalente che assumi, oppure l'integrativo che lo dai ad una cooperativa. Io ho preferito per motivi logistici e altro darla ad una cooperativa, però anche lì ho il problema degli operatori che vanno in giro in tutte le altre case, compreso gli ospedali e quant'altro. Tu ti sei fatta sentire già all'inizio del primo lockdown, anche attraverso una lettera che è mandata al Ministro Speranza, proprio sollecitando da un anno la necessità di porre maggiore attenzione alla disabilità, così come anche agli operatori che effettuano il proprio servizio a livello domiciliare. Certo, il Ministro Speranza non mi ha risposto per iscritto, ma mi ha fatto chiamare due volte da medici, non dal primo segretario qualsiasi, da medici, spiegandomi che si sarebbe interessata alla questione, però non era di competenza sua ma delle regioni, perché sono le regioni che devono istituire questo servizio. Mi ho discusso con il dirigente dell'ASP, dove si è un po' leggermente risentito di questa faccenda. Ah sì? Sì, un po' sì, perché potevo farne almeno e così via. Di arrivare al Ministero? Ma io anche stamattina potevo fare almeno di essere qui, se non mi ci avessero costretti dall'altra parte, sinceramente, me ne sarei stata tranquillamente. Allora, ha risposto il Ministro, io prima di essere invitata da voi ad esprimere questa mia opinione, ho fatto forse una ventina di giorni fa, poco più, poco meno, una telefonata alla segreteria dell'assessore Leone. L'assessore Leone, bene. Mi ha detto, noi non ne sappiamo niente, mi ha detto la segretaria, sì, si segue il calentario regolarmente, le farò sapere. Non ho saputo più niente. Cosa avevi chiesto, Alba? Avevo chiesto quanto partirà la campagna vaccinale per la disabilità, perché resta sempre per ultima. Quando loro dicono che i disabili non sono gli ultimi, allora dimostrami che non sono gli ultimi, mettimeli al primo posto, insieme agli anziani, perché i ragazzi disabili sono soggetti fragili, forse ancora più degli anziani. C'è stato in tuo soccorso anche un altro genitore, il signor Oliva, che ha scritto all'assessore Rocco Leone. L'assessore ha risposto dicendo che subito dopo, terminata la campagna vaccinale per gli over 80, però anche attraverso il richiamo, sarebbe partita quella per le disabilità. Allora io l'articolo, perché me lo sono letto, c'è quella clausola che non mi è piaciuta molto, che dice partirà la campagna vaccinale dove gli over 80 eccetera eccetera, vaccini permettendo. Questa frase vaccini permettendo a me non l'ho digerita proprio, scusatemi, proprio non mi è scesa giù. Sì, ma è quello che poi ha detto anche il direttore generale dell'ASP Bocchicchio durante il servizio che noi abbiamo visto, ha detto anche questo permettendole con le prospettive di flusso che noi abbiamo adesso attualmente, si potrebbe terminare questa prima fase, però poi c'è la seconda fase, perché sappiamo bene che senza il richiamo il vaccino non ha valore. Quindi credo che ce ne sarà ancora di tempo da attendere. Certo, io non lo dico di più, dopo aver chiamato la segretaria dell'assessore Leone, quale è una bravissima ragazza, gentilissima e tutti i resti, ho anche richiamato il sindaco della nostra città. Ma l'ho chiamato come sindaco questa volta non come amico, l'altra volta si è molto arrabbiato dicendo che lui non aveva letto le lettere che io gli avevo spedito, perché io quando ho scritto al ministro Speranza ho scritto in contemporanea la lettera al ministro Speranza, al sindaco Guarente e al direttore dell'ASP. Nessuno di loro ha risposto tranne Guarente, cioè tranne Speranza. Tranne gli uffici di Speranza. Tranne gli uffici di Speranza. Quindi mi ha invece richiamato per rimproverarmi, dice Alba come mi dici che non ti rispondo a telefono quando ci fu quella tornata appunto dei Tambocchi. Io non ho ricevuto le lettere, beh se tu non hai ricevuto le lettere è un problema tuo. A chi non te le ha date le lettere è un problema tuo. Se non mi hai risposto alle telefonate io ti faccio uno scrisciotto e ti dico che ti ho anche mandato un messaggio. Qui esco fuori da quella che è la mia amicizia con Mario Guarente e vado in quello che è il rapporto istituzionale. L'ho richiamato anche quando ho chiamato l'assessore Leone e mi dice Alba ma io cosa posso fare? Allora io ti dico, lo so Mario forse ti arrabbierai però io sono una persona onesta fino in fondo e poi ci scontreremo e ne parleremo a voce se vorrai. L'ho chiamato e lui mi dice ma io cosa posso fare? Allora io ti ricordo a te Mario come lo ricordo a tutti i sintaci del mondo che il benessere dei cittadini sono in capo al primo cittadino. Per legge, non l'ho fatta io Alba Montagnuolo perché mi sono alzata. Sicurezza e incolumità dei cittadini. Sicurezza e incolumità eccetera dei cittadini senza contare che lui ha la delega per la disabilità. Quindi avendo lui la delega della disabilità è obbligato, perde, a fare il suo dovere. Mi ha detto io ho chiamato, fatto, scritto, risollecito un'altra volta. Sicuramente l'avrà fatto, non voglio mettere in dubbio per niente la sua buona fede. Però noi a tutt'oggi non sappiamo niente. Noi non sappiamo quanto i nostri operatori, le cooperative hanno fatto richieste di vaccino e non hanno ricevuto risposta. Scusate ma queste mascherine ci stanno proprio un po'. Non hanno ricevuto risposta loro ma nemmeno noi, i genitori. C'è venuta nei giorni scorsi anche da parte di Lega delle Cooperative perché sollecitava proprio questo. Perché è un pericolo quello che si rischia per quanto attiene il lavoro, la professione di queste figure. Ma soprattutto invece per le famiglie, quali sono i disagi? Questa è anche una questione che è stata sollevata dallo SPICI GL. Ha richiamato più volte il governo regionale, le aziende sanitarie proprio ad occuparsi in modo puntuale di questa emergenza che vede soprattutto le famiglie sacrificate, costrette alla clausura totale per non far rischiare i propri figli più fragili. Infatti vengono a mancare i requisiti minimi per poter avere, non dico una vita dignitosa, ma almeno il minimo indispensabile. Io stamattina sono qui perché stamattina è una delle mattinate, io ho 18 ore settimanali. Intanto mi devono spiegare tutti quanti perché noi abbiamo una legge 104 dove l'articolo 3,3 dice che l'assistenza domiciliare deve essere somministrata per le persone gravissime H24. Io non dico che tu mi devi dare perché i fondi, capiamo, non ci sono soldi, non ci sono quelli, non ci sono quelli. Io dico che non ci sono progetti e non c'è la volontà di mettersi a lavorare, è diversa la storia. Io vorrei sfidare un attimino, mi piacerebbe per una volta soltanto andare una settimana, 15 giorni a sostituire qualche assessore e rivoluzionarti quello che è il mondo del sociale, perché non ci vuole granché per farlo, ci vuole un po' di buona volontà. Invece diciamo che è un settore che è stato sacrificato, nel senso che non c'è quell'interesse necessario proprio per far fronte. Mi sono portata una bottiglia d'acqua stamattina. A me ho un po' di mal di gola, quindi... Se è possibile avere un po' d'acqua per il nostro ospite. Non c'è proprio, allora, noi siamo sacrificati, 18 ore, vado a dire che quando l'operatore mi è venuto dalle 8 alle 10 la mattina, mi ha lavato Maria Carmela, me l'ha cambiata, mi ha aiutato a quei minumini, io non posso uscire per fare la spesa, non posso uscire per andare dal medico, per fortuna se ho usato il computer, almeno mi ci mandiamo le mail con la dottoressa che mi manda, però i servizi minimi essenziali, andare a fare la spesa dal medico e poi perché siamo esseri umani, una passeggiata ne avremmo bisogno noi. Io ho fatto i tre mesi, i quattro mesi di lockdown a marzo di l'anno scorso dove non sono uscita nemmeno sotto il portone di casa per tutelare mia figlia. Non si va da nessuna parte, non entriamo in un bar a prenderci un aperitivo, a prenderci un caffè, non facciamo niente. Siamo completamente abbandonati a noi stessi e questo non va assolutamente bene. Perché voglio continuare a ribadirle, ma lo faccio da 40 anni e forse mi sono anche un po' scocciata? Può sembrare strano, noi siamo genitori di ragazzi disabili, ma non siamo genitori di terza o quarta categoria. Siamo persone come tutti quanti gli altri con parità di diritti degli altri. Grazie. Posso un attimo? Sì, certo. Ma a questo punto c'è anche da considerare il fatto che nel tuo caso, Alba, siete comunque tu e tua figlia, perché tuo marito non c'è più, poi hai un altro figlio che però ha la sua famiglia, è sposato. Ci sono dei casi che ci sono stati segnalati in cui ci sono intere famiglie, ci sono anche dei fratelli più piccoli, che sono costretti a rimanere a casa e non poter fare nulla, proprio per tutelare la salute dei più fragili presenti nel nucleo familiare. Quindi diciamo che è una questione veramente grave e che costringe le famiglie intere a vivere in vero e proprio carcere. Molti l'hanno definito così, questo modo di vivere durante questa emergenza sanitaria. No, no, io lo dico da tanti anni, dico che io sono, io Alba Montagnuolo, mi ritengo di essere agli arresti domiciliari H24, l'unica cosa che non ho il diritto di firma, perché altrimenti io sono prigioniera, io ma come me, ripeto, sono tanti tanti genitori. Voglio far capire all'istituzione, questo è proprio un invito vero e proprio, cari signori miei, la disabilità non è una croce, la croce è il mondo che ci circonda, perché non ha capito che la disabilità ha dei sacrosanti diritti come tutti gli altri cittadini, né più e né meno. Avrebbe a diritto ad un lavoro se è in grado di lavorare, a diritto al mondo della sanità, anzi voglio anche suggerire a qualcuno, e forse in questo caso è al campo medico, di fare una rete di medici. Noi discutiamo sempre, se io vado in ospedale per una visita, io devo avere la presa in carica, cioè il neurologo, che cos'è? Il neurologo è quel medico principale di tutto, è lui o chi per lui di premonirsi, di prenotare la visita dal fisiatra, la visita ortopedica, le analisi, tutto ciò che è necessario per la ragazza, non sono io che mi devo andare sbattendo a destra e a sinistra, è una rete. Ci sono dei percorsi che andavano avviati, ma che non ci sono mai innescati. Ma che li stiamo sollecitando da anni, ci siamo veramente stancati di sollecitarli in continuazione. Sembra come se noi vorremmo essere la spada di Damocle sulla testa delle istituzioni, invece non hanno capito che sono le istituzioni la spada di Damocle sulle nostre teste. Io ho un altro figlio, dicevi bene, questo figlio è sposato alla sua famiglia, ma tra virgolette siccome sta facendo un lavoro molto ma molto pericoloso in questo periodo a casa non ci può venire. O se si affaccia davanti alla porta non va vicino alla sorella. La sorella con la videochiamata e io non posso permettere, sento il bisogno, la necessità di un abbraccio. Senza alcun motivo siete stati privati dei vostri affetti. Sì, io dico che la pandemia non l'ha voluta nessuno. O almeno voglio sperare che non l'abbia voluta nessuno. Però io dovremmo denunciare e farci fare un risarcimento d'anni per tutti i mesi che ci stanno privando della nostra libertà. Perché a un carcerato che lo mette in carcere innocentemente senza aver commesso reato dopo gli rimborsi le spese, gli anni privati, rimborsateceli pure a noi, ma rimborsateci nel termine di servizi. Ecco, vi chiediamo. Io non ho mai chiesto nulla a nessuno, non ho mai chiesto soldi a nessuno. Chiedo i sacrosanti diritti per mia figlia e per gli altri ragazzi che sono i sacrosanti diritti di tutti. Il medico di famiglia dovrebbe avere una catena di medici che dovrebbero essere disponibili H24. Si dovrebbe portare la medicina a domicilio e non il ragazzo ad andare in tutti gli ospedali. Non è difficile pensare, Mariolina, che un medico, come dire, un ecografista, vado a fare a domicilio l'ecografia al ragazzo. Dove c'è una strumentazione piccola, trasportabile, si può fare a domicilio. Rafforzare la medicina di prossimità. Rafforzare la medicina di prossimità. È fondamentale. Anche con delle infermiere. Anche perché in questo periodo quello che preme è proprio non ingolfare gli ospedali. In questo modo è l'obiettivo di tutti i piani sanitari che sono stati presentati, che sono stati approvati, che stanno per essere approvati. Prevedono questo rafforzamento della medicina di prossimità che però non avviene in alcun modo. Allora, Mariolina, io ho avuto un'esperienza forse un tre settimane fa, molto ma molto fastidiosa. Mi sono anche arrabbiata e li ho mandati a quel paese. Mia figlia, nella sua malattia di base, che è una sclerosi tuberosa e quindi è già quella una malattia, lei è un'epilettica farmacoresistente. Una sera, verso mezzanotte, ha cominciato a scatenare più crisi del normale. Ho chiamato il 118, mi diceva, veniamo a prendere la ragazza. Mi ha risposto un infermiere di cui non si è qualificato, non si è voluto qualificare. Prendiamo la ragazza e la portiamo in ospedale. Ho detto, ma a te sembra bello che io porto mia figlia da sola in ospedale e la lascio in ospedale. Non lo posso fare. Mi passi il medico, mi deve semplicemente dire se posso somministrare un'altra dose del farmaco che gli ho somministrato. Non sono riuscita a parlare. Io non so chi era il medico di guardia. Non mi sono voluta prendere la briga di sapere chi fosse. Perché se avessi voluto l'avrei potuto fare. L'avrei potuto fare. E non è così che si lavora. Perché proprio perché parliamo di evitare gli ingolfamenti negli ospedali. Noi è un anno che mia figlia non ha fatto le visite mediche. Avete sospeso tutti. Abbiamo sospeso tutti. Lei ed io pure. Per fortuna ho una mia dottoressa che poi prende gli esami e si mette in rete con lo specialista e li fa vedere a distanza. Ma non è così che può funzionare. Quando ieri il dottor Bocchicchi ha fatto l'invito a tornare negli ambulatori a fare le visite. E allora mi deve garantire una sicurezza. Una sicurezza. Il fatto stesso che si entra tutti dall'ingresso centrale. Almeno fino a poco fa era così. Non vorrei sbagliarmi. Si entra tutti dall'ingresso centrale. Non vengono contingentati. Ci ritroviamo mille persone in quegli 800 metri di corridoio. Non va bene. Io ho lavorato in ospedale. Li ho misurati per quanti chilometri facevo al giorno. Ne facevo 10 chilometri al giorno. Non va bene. Non va assolutamente bene. Perché se parliamo di assembramenti dove qui più di 4-5 persone non possiamo stare. Questo vale pure per gli ospedali. Mi devi garantire che nell'ospedale in quel reparto non ci sia un malato Covid. Ma come lo facciamo a sapere? Io che ne so se stamattina tu o io o qualche altra è infetta. Non lo sappiamo. E quindi ecco perché le cautela. A maggior ragione la cautela va mantenuta nel mondo sanitario. Io dico sempre che nella mia sfortuna di essere sola con Maria Carmela ho la fortuna di essere a conoscenza di alcune problematiche mediche proprio perché io sono un os. e quindi già una puntura a mia figlia gliela posso fare. Un farmaco glielo posso somministrare. Se ha bisogno di qualcosa lo posso fare. Ma voglio anche pensare alle tante famiglie che questa possibilità non ce l'hanno. Non ce l'hanno. E quindi cari miei signori delle istituzioni datevi una regolata perché noi ci siamo e abbiamo gli stessi diritti. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Bene Alba nella tua, l'abbiamo detto anche prima, nella tua vita ti sei sempre data da fare per tutelare i diritti delle persone disabili a cominciare appunto da tua figlia ma a finire a tutte le famiglie che hai avuto la fortuna di conoscere capendone e comprendendone e condividendo anche i problemi di ciascuno che sono sempre differenti perché si parla di disabilità però ogni disabilità ha delle caratteristiche ben precise, ha dei bisogni ben precisi e strutturati. E come ETS Marisol Lavanga che noi ricordiamo una giovanissima atleta, tua nipote, che è venuta a mancare in giovanità vi state muovendo adesso proprio per sollecitare anche la ricerca e per sollecitare il sostegno per chi è affetto da malattie rare. Avete organizzato un convegno importante che si svolgerà credo sabato? No, domenica 28, nella giornata mondiale delle malattie rare, anche in tempi di coronavirus non ho voluto che passassi inosservata questa giornata che è la giornata mondiale delle malattie rare. Che il titolo è Ciò che è raro per noi è unico. Come mai avete scelto questo titolo? Solo perché il raro non vuol dire niente, ecco è come mettere un abito firmato esclusivo ma è un abito firmato esclusivo e basta. Per noi è unico perché ogni nostro ragazzo, ogni malattia, qualunque essa sia, è unica. Tant'è che io dico sempre che la disabilità non la prendiamo come se fosse una passeggiata, la disabilità non è una per tutte. E quindi i ragazzi adulti o bambini non possono essere trattati tutti allo stesso modo. Ci sono patologie che vanno trattate in un modo, patologie in un altro. Quando parliamo di disabilità includiamo tutto, da quella neuropsichiatrica, da quella fisica e a tutto il resto. Invece non è così. E poi quando si parla di unicità si parla sempre in termini molto positivi. Unicità significa anche preziosità. Posso fare un appello all'assessore Leone? Lui si è lamentato dicendo che non c'è un registro, una banca dati sulla disabilità. Io ho iniziato nel 1990 come comitato 80 ad andare a bussare casa per casa dove c'era un disabile cercando di fare una banca dati. Noi non ci siamo mai riusciti perché le famiglie adesso sono più aperte, prima erano chiusi, non ti lasciavano nemmeno questa possibilità di parlare e così via. O di aprirsi a questo mondo per loro sconosciuto dell'associazionismo e quant'altro. Però, assessore Leone, se lei vuole sapere quanti disabili ci sono in Basilicata, non ha che da chiedere ai medici di base, perché ogni medico di famiglia ci avrà i suoi assistiti. E quindi se un medico di famiglia ha dieci ragazzi disabili, non ha difficoltà a dirglielo. In più, voglio sottolineare questo, una volta le pensioni di invalidità e gli accompagnamenti venivano erogati dalla Prefettura di Potenza o di ogni capoluogo, adesso vengono erogati dalla Regione. Quindi sicuramente la Regione, o quantomeno, chi più dell'Inps. E non mi parlate di privacy, perché la privacy non può esistere se si deve fare una banca dati della cosa. Quindi lei ha tre strumenti, caro assessore, ai medici di famiglia, alla Regione Basilicata e all'Inps. E può sapere immediatamente quanti disabili ci sono in Basilicata o perlomeno sul suo territorio. Anche perché se è nell'intenzione dell'assessore avviare la campagna vaccinale anche per le persone disabili, dovrà avvalersi di un elenco. E quindi dovrà mettersi in modo. L'altra cosa che dovrà... Ecco, lo potremmo valutare anche da questo. Certo. L'altra cosa che dovrà istituire, che siccome il ragazzo disabile non potrà andare nella tenso struttura... Certo, farlo domiciliare. Oh, deve farlo a domicilio. Sì, lo stanno già facendo anche con... E contemporaneamente a domicilio dovrebbe essere vaccinato anche la persona che sta vicino al disabile. Certo, che assiste la persona. Che assiste la persona. Quindi, cari amici, vi voglio chiamare amici perché poi in realtà siamo tutti amici, conoscenti e quant'altro. La mia battaglia o quella di qualsiasi altro genitore vi scriverà, si arrabbierà. Non vi offendete, cari signori. Mettetevi per una volta da questa parte, dalla nostra parte, non quelli di dietro ad una scrivania a dettare leggi o a dare leggi. Ma entrate nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Io dico di più, io sono sempre molto arrabbiata, Marionina. C'è una cosa che non ho mai potuto sopportare. Io per mia figlia faccio un milione di cose. Ma c'è una cosa che faccio una volta all'anno, ma che per me veramente diventa tragico e traumatico. Cioè la figlia è mia, me la cresco io. Faccio, dico, però siccome è una ragazza interdetta perché non è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita, io devo portare, devo fare la lista di come ho speso quei quattro soldi che lo Stato dà a mia figlia giudice tutelare. Allora io dico, anche in questo, che è una vecchia legge addirittura forse del 58 o qualcosa del genere. Certo, si potrebbe rinnovare, naturalmente. Ma si potrebbe modificare. Io dico sempre, siete invitati a venire a casa mia di notte, di giorno, a qualsiasi ora, senza avvisarmi. Ritengo che è più giusto andare a verificare la persona disabile, come viene tenuta nella propria casa la persona interdetta, non con quella specie di resoconto, perché fatemi la cortesia, con 4-5 mila, adesso forse l'avranno aumentato di qualche cosa, ma con 3 mila euro all'anno, fatemi la grazia, basta che vai in farmacia e le hai spesi. Alba, siamo in chiusura, volevo salutarti presentando al volo il tuo ultimo libro, sappiamo che ne hai pubblicati anche altri di poesie, questo è scritto a quattro mani con una giornalista, una nostra collega Carla Zita, e volevo anche ricordare il fatto che tu l'hai voluto dedicare ad Antonio Nicastro, vittima del Covid, tra le prime vittime del Covid qui a Potenza, qui in Basilicata, una morte che ha veramente straziato tutti, su cui è anche aperto un fascicolo in procura, si sta indagando. Grazie mille Alba per aver accettato il nostro invito, per aver condiviso con noi questo tuo disagio, che il disagio lo ricordiamo di tantissime altre famiglie, non solo della Basilicata, credo anche in tutta Italia, perché le cose a volte poi non cambiano, soprattutto nel nostro paese. e grazie a voi telespettatori e telespettatrici per averci seguito ad un prossimo appuntamento con Caffè di Traverso.